Ciao a tutti, sono Francesco Di Costanzo, Presidente Associazione Pia Social e Fondazione Italia Digitale. Con molto piacere quest'anno parteciperò alla Terni Digital Week con l'obiettivo di condividere con i relatori e gli ospiti il percorso fondamentale che tutti abbiamo davanti su una matura cultura digitale, sulle polisi digitali, sullo sviluppo di una comunicazione e informazione digitale a portata di cittadino. Servizi, informazioni, comunicazione, cultura e polisi digitali per una Pia, imprese e cittadini digitali. Ciao a tutti, ci vediamo a Terni, a presto.